Sì, mia prima edizione in tutto praticamente. È stata una lunga giornata, chiamo a testimone Don Luigi, della lunghezza e dell'impegno di questa giornata, perché in parte l'abbiamo trascorsa in tanti cittadini. Questo ci apre il cuore alla speranza, questo ci apre il cuore all'ottimismo per il futuro della nostra città. Permettetemi solo di aggiungere una, rendere omaggio alle loro opere, a quello che c'è, dei forti, le geste dei forti, le opere dei buoni, dei saggi, degli eccellenti.